eccoci a spinone un ridente paesino immerso tra verdi colline e la storia che vi racconteremo è quella di una vecchia fattoria e di come essa si trasformerà nel tempo fino a diventare ultramoderno il protagonista del nostro viaggio eccolo qui carlino un contadino paffutello simpatico e sempre allegro accompagnato dal suo fedelissimo axel un cane pieno di vitalità che lo segue durante le sue giornate di lavoro e ritorniamo nella nostra fattoria dove il nostro amico carlino ogni giorno unge la mucca per produrre del buonissimo latte da trasformare in gustoso formaggio e nel mentre il bue aiuta il nostro energico fattore nel duro lavoro di erare i campi occorre tanta forza vero bue ma per qualche animale della fattoria il tempo passa in maniera più spensierata anche se qualcosa a fine giornata tocca per farlo gli anni passano ed arriviamo ai nostri giorni la fattoria è diventata più moderna e a dirigerla al posto di carlino adesso troviamo lui pierino un ragazzo dall'aria molto furba con lui le giornate sono tutta un'altra musica e nel futuro cosa succederà beh abbiamo provato ad immaginarlo un'altra musica un'altra musica siamo giunti alla fine del nostro viaggio nel tempo e non ci resta che salutare il nostro amico contadino e la sua fattoria iper tecnologica ma sempre immersa tra verdi colline il paese di spinone e il nostro amato pianeta terra ragazzi ma non ci vedete qualcosa di strano nella sua forma un'altra musica 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 un'altra musica